come arrotondare lo stipendio ecco in questo video di oggi ho intenzione di trasmettere a voi esimi utenti di youtube questa questo trucco questo chiamiamolo trucco a tutti gli effetti che secondo me esiste per arrotondare lo stipendio in cosa consiste consiste semplicemente nel diventare un partner di youtube fare tanti video video che abbiano un sacco di visualizzazioni e poi da un po di tempo se youtube vi considererà come meritevole della partnership di indirizzare a lui a far monetizzare il vostro canale far diventare e farvi diventare dei partner guadagnare soldi con la partnership è possibile però si guadagna molto poco da come molti mi hanno detto infatti molte persone arrivano addirittura a guadagnare 10 15 euro al mese ed è veramente molto poco questa è la mia opinione queste chiaramente sono informazioni che mi sono state trasmesse oltre a poter diventare partner di youtube e guadagnare qualche soldo io vi consiglio anche però di svolgere azioni come fare ripetizioni informatica o della chiamiamola distribuita in cui vi siete laureati e o specializzati quindi fare ripetizioni agli altri oppure anche la butto lì comprarvi qualche gratta e vinci se avete però uno stipendio già fisso potete permettervi di utilizzare il gioco d'azzardo come comprare un gratta e vinci ogni tanto ma qualche data volta se avete già lo stipendio fisso se non avete uno stipendio fisso no non comprate niente questo è il mio consiglio personale gratta e vinci ogni tanto vedere che succede se magari con 5 euro ne fai 10 sa è una cosa più bella no anche 25 insomma non è mare questo è un altro che un altro consiglio che mi sento di darvi altri modi per arrotondare lo stipendio probabilmente la butto lì provare anche è una cosa che può essere fatta da chiunque a diciamo così se sei donne diventare delle webcam girl ovviamente se non siete donne siete ragazze sei uomini no le webcam girl significa che stavano delle donne delle ragazze che stanno davanti alla webcam e diciamo che a seconda dei desideri gli istinti e le voglie degli uomini quindi molto spesso si fanno delle nude scoperte mentre si masturbano e gli uomini vanno lì stanno lì a guardare a pagare pagano 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 però non ci sono rapporti sessuali quindi stai tranquilli voi donne ragazze se avete paura che probabilmente potete fare sesso con gli uomini perché non fate sesso ma state davanti al nuovo webcam loro vi guardano e basta e loro pagano vi danno soldi bene questi sono i metodi che secondo me possono essere utili per diciamo così arrotondare lo stipendio dal vostro leandro narrato italiano è tutto un saluto e al prossimo video